bene eccoci qua eccoci qua di nuovo in diretta per l'ennesimo caffè scienza e su questa volta di nuovo con la dottoressa graziella morace diretta per l'ennesimo caffè scienza e salutiamo qui quindi spero che continuate a seguirci come al solito giovanna introdurrà un po il tema la prima volta lo diciamo che siamo noi che cosa facciamo come si può intervenire e così via e poi lascerò la parola a graziella e poi chiaramente alle vostre domande ce le sono già arrivate qualche luna ma grazie ha già detto che le risponderà durante la presentazione aveva già anticipato giovanna raccontaci un po chi siamo e da dove veniamo e dove andiamo allora intanto buonasera a tutti grazie graziella di essere di nuovo con noi per questa seconda serata specifica sul tema in cui te ti occupi al caffè scienza ricordo a tutti che per intervenire la modalità migliore è lo garsi su youtube e scrivere nella chat via via che arrivano le domande io le presenterò a graziella che risponderà se non avete la chat di youtube potete anche intervenire ogni tanto guarderò anche facebook quindi la pagina del caffè scienza di facebook oppure le domande che sono presenti sul sito del caffè scienza alla pagina del caffè scienza di stasera però di essere stata chiara e quindi grazie a tutti per essere qui con noi vedo che online ci sono 35 spettatori attuali ma arriveranno sono sempre un po in ritardo e quindi direi che si può partire anzi 40 ora quindi franco e graziella se ci siete partiamo ci siamo io sono qui vi ringrazio dell'opportunità appunto che mi avete dato di parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore anche perché io ho lavorato per molti anni proprio sul controllo dei vaccini per controllare nella sicurezza e per l'uomo e quindi insomma è un argomento che mi sta a cuore anche perché purtroppo come sappiamo ci sono diverse persone che sollevano problemi appunto sui vaccini ma cominciamo dall'inizio appunto diciamo intanto che il mondo è pieno di microbi lo sappiamo se franco mi manda la diapositiva vedete ci sono appunto microbi tutti i tipi batteri virus funghi sono gli esseri viventi più numerosi sulla terra e dal momento in cui nasciamo praticamente siamo colonizzati da miliardi di questi microrganismi alcuni sono innocui altri sono addirittura utili come quelli del nostro microbioma e però ci sono anche quelli che sono patogeni che vivono e si riproducono al nostro danno e sono principalmente batteri e virus e sono responsabili delle malattie infettive fortunatamente per molti di essi abbiamo delle armi per combatterli e sono i farmaci e i vaccini e propri vaccini sono una delle armi migliori che l'uomo abbia mai prodotto appunto contro le malattie effettive e praticamente sono anche i farmaci più sicuri e più economici della storia della medicina e le profilassi vaccinali secondo appunto i dati dell'oms e dell'unicef salvano ogni anno due milioni e mezzo di persone nel mondo il che vuol dire che se calcoliamo per esempio in una ventina d'anni sono 50 milioni di persone tuttavia ci sono diverse persone appunto che ne hanno paura e perché questo proprio perché purtroppo tra virgolette grazie alle vaccinazioni le malattie infettive e le malattie effettive gravi sono diventate divenute piuttosto rare e perciò si è persa la o è diminuita la percezione della loro importanza e della loro pericolosità e i vaccini quindi si pensa che non siano più necessari e mi dai la prossima diapositiva per favore e quindi la domanda proprio è questa se io non ho mai conosciuto nessuno che sia che abbia avuto magari il tetano o la poliomelite o una di queste malattie gravi non ho conosciuto nessuno che ne sia morto perché dovrei vaccinare perché mi dovrei fidare di quelli che mi dicono di vaccinare me o di vaccinare i miei figli quando senti dire poi che i vaccini sono invece un veleno mi dai la prossima o addirittura una cospirazione di big farma per guadagnare ma è davvero così veramente i vaccini sono inutile i vaccini servono solo ad arricchire le grandi compagnie farmaceutiche ma questo lo vedremo intanto posso dire che probabilmente a chi ha paura delle vaccinazioni non è ben chiaro cosa volesse dire vivere in un mondo in cui i vaccini non c'erano e certe malattie si diffondevano rapidamente causando veri e propri stragi il vaiolo per esempio era una malattia terribile che uccideva il 30 per cento delle persone colpite il che vuol dire che su un milione di persone ne morivano 300 mila e quelle che sopravvivevano molto spesso avevano dei dei problemi come cecità o deformità degli arti si calcola che ancora nel secolo scorso il vaiolo abbia fatto 300 milioni di vittime poi per fortuna grazie al vaccino è stato debellato e è stato possibile dichiarare questa malattia questo virus estinto alla fine degli anni 70 e poi abbiamo la poliomelite che dire della poliomelite la poliomelite è una malattia che provoca paralisi e obbliga a vivere con le stampelle o in sedia a rotelle io avevo una compagna di classe che purtroppo appunto era sulla sedia a rotelle per esempio ma nei casi più gravi provoca addittura la paralisi di tutti i muscoli compresi quelli del diaframma e la persona non riesce più a respirare o muore o è costretta per tutta la vita lo era per fortuna perché ormai è quasi debellato insomma comunque era costretta in un polmone d'acciaio immaginate che razza di vita in italia l'ultimo grande epidemia si verificò nel 58 e secondo i dati del ministero della salute ci sono stati quasi 8.400 paralizzati fortunatamente all'inizio degli anni 60 prima c'è stato il vaccino di solc poi quello di sebbino hanno permesso appunto di eradicarlo quasi completamente ci sono rimaste alcune sacche l'oms spera di riuscire ad eradicarlo completamente per il 2023 e poi anche grazie ai vaccini sono diventate molto meno pericolose altre malattie come la difterite il tetano però ecco questo è quello che noi abbiamo dimenticato quello che si vede in questa diapositiva e non dobbiamo dimenticarlo però perché i microbi girano ancora purtroppo e sono pronti a riprendere il sopravvento ma come funzionano i vaccini qual è il principio intanto ecco queste sono alcune la complicazione di alcune malattie guardate appunto per esempio che cosa può succedere con il morbillo con la parotite e così via la quantità di punto malattie gravi ed anche di morte che si possono verificare appunto in seguito all'infezione con questi microrganismi sono appunto molto gravi ma appunto i vaccini come funzionano qual è il principio della vaccinazione e dunque noi sappiamo tutti quanti che la protezione alla nostra protezione contro gli agenti patogeni è grazie alla risposta immunitaria praticamente contro qualsiasi elemento estraneo al nostro organismo si scatena appunto questa risposta immunitaria con gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario tra cui i linfociti al primo incontro con un microrganismo però il sistema immunitario può non essere così veloce può richiedere alcuni giorni per sviluppare una risposta specifica e perciò la malattia si può sviluppare con i suoi sintomi ed eventuali complicazioni ma se il nostro organismo ha già incontrato quel microbo una prima volta se lo ricorderà e sarà più pronto una seconda volta e questo è quello che viene chiamato il meccanismo della memoria immunitaria ora come agiscono i vaccini appunto i vaccini agiscono praticamente mimando no torna indietro per favore e mimando il incontro punto con il microrganismo in modo tale che la seconda volta che quando lo incontrerà veramente il nostro organismo sia pronto è un po come se il vaccino fosse una foto segnaletica di un terrorista se nessuno lo conosce questo potrà agire indisturbato appunto e fare i danni che vuole ma se la polizia sa che aspetto ha potrà fermarlo in tempo prima appunto che possa mettere in atto i suoi piani criminosi questo è proprio appunto come funziona un vaccino ma come è fatto un vaccino un vaccino appunto è prodotto utilizzando minuscole quantità di agenti infettivi cioè virus o batteri che possono essere uccisi o inattivati o attenuati praticamente microrganismi nel caso di attenuati si replicano ma non danno la malattia negli altri casi non possono replicarsi oppure si possono avere può essere costituito il vaccino da alcune sue parti o prodotti cioè insomma solamente da quelli che vengono chiamati antigeni del microrganismo per esempio il vaccino antipolio che si usa adesso che quello di solc è costituito da virus inattivato cioè ucciso mentre quello che si usava prima quello di sebbin era un virus attenuato così come lo sono quelli della parotite per esempio del morbillo e della rosolia nel caso per esempio del vaccino antitetanico e dell'antidifterico invece si utilizzano dei pezzetti della superficie del microrganismo cioè scusate si usano delle tossine attenuate delle tossine attenuate mentre si usano dei pezzi di microrganismo per esempio nel vaccino dell'epatite b in cui si usa solamente una proteina di superficie di questo virus e parliamo appunto adesso del vaccino per il virus che ci sta che gira ora questo sars cov2 che appunto ci sta creando tanti problemi naturalmente appunto ci sono molte compagnie che stanno cercando di produrre questo vaccino e anche delle università ce ne sono attualmente addirittura una settantina di tra ditte e laboratori di università che stanno cercando di produrre appunto questo vaccino e si può ci sono vari meccanismi stanno cercando appunto di produrlo con meccanismi differenti per esempio si possono usare delle cellule di lievito per produrre la proteina delle spiccole che pronto possa poi funzionare per immunizzare e per esempio questo è il sistema simile a quello con cui viene prodotto il vaccino dell'epatite b anche il vaccino dell'epatite b la proteina immunogena viene fatta produrre dalle cellule del lievito è interessante l'uso appunto che stanno la produzione che stanno facendo con avete sentito parlare un cerotto ovvero sia un pezzo di una plastica particolare che contiene tanti aghi di un materiale che si dissolve rapidamente una volta che penetrato nella pelle che trasporta questa proteina e questo potrebbe se funzionasse potrebbe essere un vaccino piuttosto utile per i paesi poveri paesi dove non c'è una catena del freddo assicurata perché questo vaccino non necessita di refrigerazione quindi se funziona potrebbe essere appunto molto utile e poi ci sta ad esempio l'uso di adenovirus non patogeni sono dei virus appunto che normalmente danno o raffreddori o problemi intestinali ma chiaramente qui sono trattati in maniera di non essere di non dare la malattia di non essere patogeni e sulla loro superficie vengono messe le spiccole del virus del sars cov2 sono le spiccole quelle che diciamo gli antigeni che portano gli antigeni che sono così sembra insomma si spera che siano quelli che danno l'immunità che fanno sviluppare l'immunità e per esempio un vaccino di questo genere è quello che stanno producendo in insieme una ditta italiana di pomezia la rbm insieme all'università di oxford e per cui hanno detto punto di star comincia stanno cominciando la fase 1 cioè la prova in un piccolo gruppo di individui per vedere se il vaccino intanto se non è tossico e anche c'è anche una ditta cinese che sta utilizzando lo stesso sistema e addirittura è già in una fase successiva e poi un altro sistema invece è utilizzare l'RNA del virus iniettare l'RNA del virus nell'individuo sotto pelle in maniera tale che la proteina venga prodotta direttamente nell'organismo e qui si può fare o iniettandolo direttamente con dei micro aghi oppure facendolo portare all'interno di adenovirus che qui non vuoti non funzionanti quindi chiaramente qui già sono arrivate naturalmente le ipotesi di complotto già dal quello che dice che è stato prodotto il laboratorio il virus per costringersi a comprare un vaccino e quindi arricchire le compagnie che quelle ditte che producono i vaccini o addirittura marchiarci con dei microchip come appunto sostiene questa il successivo anche qui appunto marchiarci con un microchip in maniera tale poi da poterci controllare da poterci seguire insomma da privarci della libertà ci sono c'è qualche domanda fino a questo punto mi fermo un attimo no vado avanti al momento va bene ci sono i vaccini sono dei farmaci appunto chiaramente ma dati alla mano sono i farmaci più sicuri che esistano da cui qualità è oggetto di questa valutazione se ci pensiamo vediamo che non c'è nessun altro farmaco che dia una reazione avversa di uno su milione un milione duecentomila persone per esempio il rischio di reazione avversa legato all'aspirina o ai fans cioè gli antinfiammatori non steroidei è molto è molto molto più elevato addirittura secondo studio negli usa ogni anno l'aspirina e i fans sono responsabili di 100 mila ricoveri e tra i 7 mila e i 10 mila decessi se ci pensate anche il latte le uova ingerire delle arachidi portare andare in giro con la macchina bene queste sono tutte attività che hanno un rischio maggiore e possono essere mortali a proposito i vaccini appunto non possono in rarissimi casi dare delle reazioni gravi ma in rarissimi casi ma mai la morte non esistono casi mortali da vaccino adesso poi ne parleremo ancora dopo comunque il processo alla base dell'approvazione di un vaccino molto lungo richiede numerose fasi proprio per garantire la sicurezza e addirittura in generale adesso chiaramente attualmente siamo in un caso particolare vedremo ma normalmente per sviluppare un vaccino passano tantissimi anni si può arrivare dall'inizio cioè da quando la ditta comincia a svilupparlo a quando poi si mette sul mercato possono passare addirittura fino a dieci anni perché appunto prima vanno fatte le prove in vitro cioè sulle cellule e le prove sugli animali da laboratorio dopodiché se tutto va bene cioè se già ci sono delle indicazioni che il vaccino non è pericoloso ed è immunogeno negli animali vengono inoltrata la richiesta d'autorizzazione per fare le prove sull'uomo richiesta d'autorizzazione che si inoltre alle autorità competenti sia nazionali che internazionali le prime prove vengono fatte su piccoli gruppi di volontari centinaio di persone o poco di più per vedere se il vaccino non è pericoloso cioè se non è tossico passata questa fase si aumenta il numero di volontari e si comincia a provare se il vaccino oltre a non essere tossico è anche immunogeno se già si sono delle buone indicazioni si si va avanti su un numero molto più elevato di alcune migliaia di individui se a questo punto ci sono indicazioni buone sull'attività e sulla sicurezza di questo vaccino tutta la documentazione viene inviata appunto alle autorità nazionali e internazionali per l'europa abbiamo l'ema e per l'italia c'è l'aifa che se ne occupa con l'aiuto di quella consulenza degli studi di sanità degli esperti tra cui appunto sono stata io per parecchi anni e e dopo di che appunto se tutto va bene viene data l'autorizzazione all'emissione in commercio e chiaramente a questo punto la ditta comincia la produzione su larga scala però prima dell'immissione proprio in commercio cioè di fornire vaccini alle farmacie vengono fatti ulteriori controlli sia da parte della ditta sia da parte delle autorità appunto governative delle autorità di controllo praticamente vengono mandati campioni di ogni lotto vengono controllati appunto e si deve verificare che appunto siano adatti ad essere commercializzati e quindi vengono messi in commercio ma non finisce qui perché la sicurezza dei vaccini viene controllata anche successivamente cioè attraverso praticamente quella che viene chiamato sistema di farmacosorveglianza che raccoglie le segnalazioni di tutte le reazioni avverse osservate dopo la somministrazione in modo tale da mettere in evidenza anche quelle reazioni così rare da essere individuate solo da quando milioni di persone sono state vaccinate è chiaro che i vaccini sono i farmaci più sicuri al mondo ma se per vaccino sicuro noi vogliamo intendere un prodotto completamente privo di effetti collaterali nessun vaccino lo è perché il rischio zero non esiste nessuna attività umana nella realtà un vaccino sicuro è quello che solo molto raramente in casi eccezionali può provocare effetti collaterali seri che tuttavia vengono considerati accettabili perché il vaccino protegge da un pericolo maggiore cioè dagli effetti della malattia e per esempio vediamo in questa tabella poi vedremo anche nella successiva i rischi per la salute legati ad alcune malattie e le correlati alla vaccinazione contro quelle malattie così qui possiamo appunto anche vedere quale è la situazione ovvero appunto guardate i rischi per esempio legato al vaccino morbillo parotite rosolia confrontati ai rischi del malattie non c'è assolutamente paragone appunto il rischio di qualche effetto collaterale di una certa gravità è veramente minimo mentre appunto abbiamo dei grossi rischi fino alla morte con il con questi tre virus ma anche nel caso della difterite per esempio del vaccino contro la difterite il tetano e la pertosse guardate appunto quali possono essere i rischi legati al vaccino e i rischi delle malattie e così anche col meningococco potete vedere gli effetti collaterali sono veramente molto lievi o appunto se poi quelli che sono proprio gravi sono molto rari calcolate qui comunque non c'è mai il rischio di morte e anche appunto la maggior parte gli effetti collaterali praticamente si può dire tutti tranne rarissimi casi sono completamente reversibili e lo stesso anche per queste malattie l'influenza ma anche appunto il qualsiasi altra malattia insomma la la polmonite o il papilloma virus il papilloma virus che il vaccino si somministra agli adolescenti sia maschi che femmine può crea provocare e del addirittura far insorgere cancro e non solo nelle donne ma anche negli uomini come vedete insomma e gli effetti collaterali anche qui i rischi sono piuttosto bassi come esempio però vi faccio vedere nella diapositiva successiva le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini somministrate nella regione venetro tra il 1993 e il 2018 come vedete sono state inoculate più di 37 milioni di eh dosi le schede di segnalazione sono state 22 mila e 600 come potete vedere gli eventi gravi correlabili correlabili come tempo e come eventuale possibilità che fossero legati a questi vaccini sono praticamente lo 0,002 per cento gli eventi con sequele a distanza sono stati uno su due milioni circa di dosi decessi correlabili zero ma in realtà poi eh la maggior parte delle segnalazioni si riferivano a dolore e esito di inovolazione difficoltà temporanea a muovere l'arto febbre elevata o convulsioni febbrili che sono impressionanti perché è vero è successo anche a mio figlio mi sono presa un grande spavento ma si risolvono sempre rapidamente senza conseguenze inoltre è necessario ricordare che non è detto che gli eventi che sono segnalati siano effettivamente correlati con la vaccinazione infatti nel caso di una relazione cronologica tra una vaccinazione una successiva reazione avversa molto spesso si tratta semplicemente di una associazione casuale e non causale noi siamo portati a pensare che se un evento B si verifica dopo un evento A specialmente se questo evento B è un brutto evento noi siamo portati a pensare che sia che l'evento A ne sia stata la causa ma non ho detto adesso tanto per scherzare se il gallo canta prima del sorge del sole ma non è che il sole sorge perché il gallo ha cantato per quanto si riguarda i vaccini per verificare se un certo ho fatto un pasticcio scusate sono cose che succedono inconvenienti del mestiere ma allora ecco qua scusatemi tanto mannaggia è che c'ho lo sto tenendo su un cavalletto perché non mi funziona la telecamera del computer lo sto tenendo su un cavalletto e mi questo cavalletto come lo tocco casca tutto mi volevo che abbiamo usato interruzione siccome ci sono un po di domande che faccio parto volevo diciamo solo finire questo discorso un certo evento è correlato a una vaccinazione è necessario effettuare accurati studi epidemiologici con rigorosi metodi statistici e sottolineo accurati e rigolosi perché se gli studi non sono fatti come si deve i risultati sono analizzati non correttamente si rischia di ottenere le cose più improbabili per esempio ecco come esempio vi faccio vedere questo che diciamo uno scherzo è fatto uno studio fatto per scherzo perché anche gli scienziati sanno scherzare nella relazione tra consumo di cioccolata in una nazione e il numero di premi nobel vinti dalla gente di questa stessa nazione perché si dice che la cioccolata si faccia bene al cervello no ecco e potete vedere che in effetti in generale dove si consuma più cioccolata sembrano esserci più premi nobel ma è chiaro che è uno scherzo no e punto questa correlazione è una correlazione spuria quindi bisogna stare molto attenti punto adesso possiamo se ci sono delle domande sì molto volentieri rispondo sì ne sono un po' parto dalla prima martina chiede molti novax tramite uno dei loro portavoci che abbiamo citato anche la volta scorso ovvero montanari dicono che nei preparati dei vaccini ci sono in parte di essi è vero ci sono scusa non ho capito la parola i embrioni certo come no allora adesso si la spiego questa cosa dunque molti i vaccini per i virus sono degli organismi che crescono solamente sulle cellule quindi devono essere coltivati appunto su cellule allora per si fanno crescere appunto in cultura in laboratorio su delle cellule e per molti per diversi virus queste cellule su cui crescono bene essendo virus umani sono virus umani oppure dico cellule umane oppure cellule di scimmia tanto tempo fa sono state diciamo da un embrione abortito nel inizio degli anni 50 e è stato sono state prelevate alcune cellule e sono state messe in coltura queste cellule sono state riprodotte 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 ormai sono state diciamo riprodotte per milioni di volte qui sono quindi delle cellule sì che provenivano da un embrione ma ormai non è appunto non è che sono fatte sugli embrioni e comunque e comunque ogni vaccino quando viene prodotto viene poi purificato chiaramente il virus viene estratto da queste cellule viene purificato 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 alla fine praticamente nel vaccino c'è solo il virus o le sue parti se appunto se il virus viene spezzettato per utilizzarlo nel vaccino quindi appunto sì una volta si è partito chiaramente prima cosa una cosa che voglio chiarire questo aborto era un aborto spontaneo non è stato fatto apposta naturalmente così come delle altre cellule per esempio vengono da dal cancro di una povera signora che negli stati uniti negli anni fa morì di cancro e furono prese le cellule di questo tumore e furono messe in coltura perché le cellule tumorali come sappiamo crescono molto bene e quindi chiaramente crescono in grande quantità e crescono molto bene ma anche in questo caso appunto ormai le cellule del tumore originario non ci sono più perché anche queste e poi anche in questo caso vengono stra purificati per cui alla fine non c'è più nulla e c'è solo il virus L'altra domanda invece ce la fa Massimo che ci chiede come funziona il vaccino influenzale visto che ci vuole così tanto tempo per creare un vaccino e l'influenza è sempre diversa per ogni anno? Dunque sì e beh intanto si fa rapidamente perché chiaramente la tecnica è sempre la stessa quindi una volta che l'OMS dopo aver ricevuto tutte le segnalazioni dall'emisfero opposto a quello per cui va preparato il vaccino cioè il vaccino nostro per esempio viene preparato in base alle segnalazioni dell'altro emisfero in cui quando da noi è estate da loro è inverno per cui circola l'influenza allora una volta ricevuto tutte le segnalazioni stabilisce quali saranno i ceppi che devono essere messi nel vaccino e appunto siccome il sistema appunto è sempre lo stesso si fa comunque in tempo a produrlo anche perché il sistema è già approvato quindi deve essere solo controllato che sia stato applicato nella maniera giusta che non si siano verificate delle mutazioni che possono appunto rendere il virus pericoloso e insomma una volta verificato questo il sistema è sempre lo stesso per cui ci vuole poco appunto e chiaramente gli studi sull'uomo anche sono più accelerati e con meno persone proprio perché ormai si conosce questo virus anche se perché le differenze non è che sono tali da rendere il virus completamente differente e quindi da necessitare degli studi ex novo completamente o di modificare il sistema di produzione per cui insomma si riesce a fare rapidamente è un tour de force, una faticaccia sia per la ditta e sia per quelli appunto per le persone che debbono poi dare l'ok cioè controllare che va tutto bene cioè le persone dei laboratori autorizzati o insomma dell'AIFA e così però si fa Bene, sempre a proposito appunto di persone e di vaccini Francesco chiede qual è il campione minimo di persone per provare il vaccino e valutare gli eventuali effetti collaterali E beh appunto come ho accennato prima noi abbiamo prima un centinaio di persone 100-200 persone per vedere che non sia tossico una volta determinato questo appunto si aumenta il numero delle persone e diciamo praticamente alla fine si arriva a qualche migliaio di persone insomma sono già stabilite queste tappe diciamo ci sono queste tre tappe appunto inizialmente 100-200 persone per vedere che non sia tossico poi altre due tappe successive aumentando il numero delle persone arrivando appunto a qualche migliaio per vedere non solo che non sia tossico ma anche che sia immunogeno adesso appunto se ho il numero preciso preciso va bene va benissimo ci sono qualche migliaia di persone appunto per dimostrare che possa essere utilizzato Gabriele chiede Reazione allergica severa Si intende shock anafilattico? Il medico operante non mi somministrò il vaccino per la meningite sulla base delle reazioni precedenti parlava di terreni di cultura Dunque ma non so se lui ha avuto per esempio uno shock anafilattico ad un altro vaccino è chiaro che se aveva già avuto uno shock anafilattico verso un altro vaccino direi che non era il caso di somministrarglielo invece se una persona è semplicemente allergica non è una controindicazione all'utilizzazione di un vaccino per esempio solo in caso appunto che si abbia avuto uno shock anafilattico o abbia avuto una reazione quella che viene una Guillain-Barré che è un problema che si può verificare a volte con appunto la vaccinazione ma è molto raro e comunque è reversibile ed è praticamente un problema che si verifica anche con infezioni proprio cioè con il virus vivo che il virus di natura può a volte capitare adesso questo discorso del terreno di cultura non so esattamente cosa volesse intendere il medico Gabriele se ce lo vuoi riscrivere no solo arrossamento e gonfiore ecco c'è scritto che ha avuto probabilmente ai vaccini precedenti solo arrossamento e gonfiore e beh ma questo è normale cioè questo è l'effetto collaterale più classico che praticamente hanno tutti o almeno il 95% delle persone questo è l'effetto normale si può avere magari anche un po' di febretta appunto anche elevata magari che passa in uno o due giorni queste sono le cose più comuni e quindi che non gli abbia fatto un vaccino perché temeva chissà che cosa perché Gabriele aveva avuto arrossamento e gonfiore non lo so mi sembra strano che non saprei che dire insomma comunque per il discorso dello shock anafilattico proprio per questo si come se compare compare subito per questo si dice che bisogna stare una mezz'ora nello studio del medico vaccinatore prima di dopo il vaccino in modo tale che si sia uno shock anafilattico il medico può intervenire rapidamente e diciamo bloccare il problema eliminare il problema Perfetto Donatella chiede no ce n'era una aspetta questo è interessante Claudia chiede andiamo in fila se no mi perdo quali tipi di vaccino hanno dato effetti negativi? Cioè ci sono dei vaccini che poi hanno effetti negativi che non sono stati utilizzati? Penso eh che la domanda è grave Diciamo che tutti i vaccini che sono in uso appunto sono vaccini appunto sicuri con l'accezione che abbiamo detto nel senso la sicurezza totale è quello che abbiamo detto però insomma i vaccini sì probabilmente ci saranno ma appunto non hanno passato l'autorizzazione e quindi non sono stati messi in commercio Aspetta Ci sono magari c'è qualche cosa qualche vaccino sempre del punto dell'inizio degli anni 50-60 che ha dato che può aver dato qualche problema ma ormai diciamo non si utilizzano più eravamo un po' all'inizio delle vaccinazioni insomma E Donatella chiede se il Covid-19 sarà come l'influenza o come il morbillo? Bella domanda Dunque intanto siccome sono un po' non so come si chiama non sono un'analisi grammar un'analisi virus non sarebbe bene c'è questo abitudine ormai di definire di dire Covid come se questo fosse il virus Covid vuol dire malattia perché è la malattia data dal virus perché la D sta per disease che in inglese significa malattia quindi in realtà non dobbiamo parlare di Covid se intendiamo il virus ma dobbiamo parlare o di coronavirus o di SARS-CoV-2 mi rendo conto magari che è un po' lungo vabbè questa era una precisazione mia è giusto sbaglio anch'io per quanto riguarda il discorso di che cosa può essere simile direi che a nessuno dei due cioè non è un'influenza perché appunto diciamo si diffonde molto di più perché non abbiamo nessuna immunità mentre l'influenza anche se il virus cambia da un anno all'altra parte che l'influenza sono tre ceppi di virus influenzali che effettano l'uomo e in genere non è che cambiano tutti e tre quelli che sono messi nel vaccino comunque c'è sempre un certo grado di immunità perché c'è comunque un certo grado di cross-reattività si chiama cioè che un virus simile molto simile comunque può essere in qualche modo bloccato dal sistema riconosciuto parzialmente almeno dal sistema immunitario perciò c'è un minimo di protezione insomma quindi l'influenza da insomma meno si diffonde di meno questo si diffonde molto di più e poi abbiamo visto appunto che ci dà purtroppo un numero maggiore di morti quindi di quanto sia l'influenza anche se l'influenza ogni anno pure provoca diversi morti e per quanto riguarda il morbillo il morbillo è molto molto contagioso ha una contagiosità molto più elevata questo ha ogni persona infetta può contagiare tra le due e le tre persone per quanto riguarda il morbillo ogni persona ne può contagiare tra le 15 e le 16 quindi sì e quindi diciamo non è che possiamo dire che sia la stessa cosa anche come discorso anche lì per il morbillo fortunatamente noi abbiamo un vaccino e quindi da questo punto di vista non è tra virgolette così grave nel senso il morbillo non è una malattia stupida è una malattia che può essere veramente grave ma per fortuna abbiamo il vaccino quindi non so questi paragoni non sono esatti nessuno dei due insomma andiamo avanti ti faccio qualche altra domanda ce ne sono altre oppure vuoi come vuoi te le faccio un altro paio Maurizio torna a chiedere una domanda sull'antinfluenzale che si vede un vaccino che giustamente interessa molti come si possono fare statistiche sulla loro efficacia dato il limitatissimo tempo a disposizione non si possono usare le tecniche per le malattie più stabili certo comunque in qualche modo si riesce a farle certamente appunto non non è così non sono così precise però comunque insomma quello che si riesce a fare comunque ci dimostra che il vaccino dell'influenza è protettivo non è un vaccino diciamo che protegge proprio il 100% delle persone anche perché magari non è detto siccome viene fatta una previsione chiaramente non è che le previsioni siano sempre precise a volte può capitare che uno dei ceppi che sono all'interno non del vaccino non sia perfettamente corrispondente al virus che poi circola però bene o male insomma tutte le analisi che si riescono a fare ci dimostrano in ogni caso che il vaccino dell'influenza funziona e ha una sua attività protettiva e poi c'è una domanda di Lucia che l'ha fatta in tre tappe io mi scuso con Lucia se mi senti perché non so esattamente di cosa stia parlando quindi la leggo senza capire mi scuso anche con Lucia che l'ha fatta però te la leggo gli antivax non sanno che quello che fa male e pochi lo dicono sono gli aggreganti e ti chiede non pensa che una campagna molto numerosa contro questo servirebbe più dell'antivax ovvero dice sono metalli ma anche lei non ne parla io non so di cosa si parte ma dunque parto da quest'ultimo discorso cioè dalla domanda sui metalli allora nei vaccini c'è diciamo ci sono metalli ma spieghiamo che cosa significa dunque nei vaccini c'è l'alluminio l'alluminio è un metallo che viene utilizzato per come diciamo per simolare il sistema immunitario ma è veramente in quantità minima io avevo preparato appunto una diapositiva anche su questo ma vabbè la vedremo dopo comunque è in una quantità minima l'alluminio è un un metallo che è diffusissimo è diffusissimo nell'aria nell'acqua nei cibi addirittura un bambino un neonato nasce già con una certa quantità di alluminio che la madre gli ha trasmessa attraverso il sangue nel latte della madre c'è alluminio e ce n'è ancora di più nel latte artificiale la quantità di alluminio che viene inoculata con i vaccini è veramente minima diciamo più bassa di quanto se ne può trovare appunto nell'ambiente nei cibi e quindi diciamo e comunque tutti gli studi fatti dal OMS e da tutti chiaramente i laboratori hanno dimostrato che non c'è nessuna pericolosità di questo minime minime quantità di alluminio nell'ordine dei microgrammi che vengono iniettate appunto ai bambini sono stati fatti chiaramente tanti studi perché stiamo diciamo non stiamo giocando con la salute dei bambini per quanto riguarda altri metalli sì ci sono degli studi della coppia Montanari-Galli che hanno mostrato la presenza di piccolissime quantità di metalli dentro i vaccini però però questi studi sono considerati non avere validità perché in realtà mancano i di controlli se queste persone avessero utilizzato dei controlli cioè avessero utilizzato anche come controllo semplicemente dell'acqua si sarebbero accorti che anche nell'acqua ci sono particelle di metallo purtroppo c'è l'inquinamento e particelle metalliche sono ovunque nell'acqua nei cibi loro stessi hanno fatto uno studio in cui hanno dimostrato la presenza di particelle di metallo nel pane nella cioccolata ovunque quindi purtroppo particelle di metallo non si possono eliminare se noi consideriamo che molte delle persone che si dicono antivax poi per esempio si fanno i tatuaggi e a volte le fanno fare anche ai ragazzi può capitare anche a bambini piccoli dove lì vengono inoculate grosse quantità di materiali compresi metalli vedremo appunto che questo discorso non ha senso tra l'altro appunto sono stati fatti degli studi anche qui da laboratori seri e appunto hanno mostrato che le quantità comunque sono veramente infinitesimali e tali da non creare problemi alla salute io non vedo più nessuno che è successo ci siamo ci siamo ti volevamo lasciare diciamo lo spazio tranquillo ci vuole un momento di tempo per reagire qui ci sono altre domande non so se vuoi se vuoi rispondere subito no no non ti lasciamo sola solo che per reagire per trovare la finestra giusta ci vuole un po' di tempo io direi se siete d'accordo ci sono altre domande però direi graziella parla un pochino te e poi si vede se non rispondi alle domande con la tua presentazione perché se no tanto lo so che le persone sono stra interessate però magari diamogli qualche altra cosa qualche altra slide se siete d'accordo noi e poi rinconciamo con le domande ce ne sono un sacco e intanto appunto volevo parlare della percezione del rischio appunto che il nostro cervello a proposito del rischio legato ai vaccini e del rischio legato alle malattie infettive il nostro cervello facilmente viene ingannato è facile che percepisca male il rischio per esempio vi faccio una domanda io vi mostro qui una piscina e un aereo già abbastanza disastrato ora se io vi chiedo se è più pericoloso fare il bagno in una piscina oppure fare un volo aereo voi che mi rispondete di primo acchito mi direte beh è più pericoloso un aereo eppure eppure se vediamo la successiva per esempio negli questi sono studi fatti negli Stati Uniti praticamente tra il 1999 e il 2010 negli Stati Uniti sono annegate in piscina 15.000 persone e questa è la prima causa di morte nei bambini tra 1 e 4 anni mentre nello stesso periodo in tutto il mondo non solo negli Stati Uniti sono morte solamente chiaramente tra virgolette 9.200 persone per disastri aerei vedete appunto come noi calcoliamo come diciamo tendiamo a calcolare male il rischio chiaramente in aereo magari se c'è un disastro aereo muoiono tante persone tutte insieme se in piscina magari ne annega uno ma se poi noi invece andiamo a fare il conto ci accorgeremo appunto che è molto più pericolosa l'acqua di quanto sia un volo aereo e gli stessi errori di valutazione noi li commettiamo quando si tratta delle malattie infettive in questo caso si va da un estremo all'altro si va dal panico che porta a chiedere i vaccini quando si presenta il rischio come nella situazione attuale o nell'epidemia di meningite che si verificano ogni tanto o l'incoscienza nel momento di tranquillità che ci porta per esempio a rifiutare la vaccinazione contro il morbillo che viene considerata una malattia banale e queste difficoltà di valutazione ci portano appunto a dei dubbi e delle incertezze a dei timori che sono un terreno fertile per la diffusione di informazioni errate e prive di fondamento scientifico appunto che però vengono diffuse con una parvenza di verosimiglianza e appunto io ne ho presentata qui qualcuna ne ho riassunta qualcuna e vorrei vederla con voi alcuni per esempio pensano che i vaccini non siano necessari ormai perché le condizioni le misure igieniche e sanitarie il miglioramento delle misure igieniche e sanitarie è sufficiente a far scomparire le malattie così anche la buona nutrizione ma in realtà diciamo sì anche se un igiene migliore il lavaggio delle mani l'acqua pulita contribuiscono a proteggerci dalla malattia infettiva e questo non è sufficiente infatti per esempio consideriamo per esempio la poliomelite la poliomelite è trasmessa per via orofecale e quindi la sua diffusione è estremamente correlata con le condizioni igieniche e tuttavia è stato possibile eliminare questa malattia non solo dai paesi industrializzati ma anche in paesi onare con bassi livelli igienico-sanitari per esempio appunto è stato possibile radicarla dall'India anche se come sappiamo esistono delle zone dell'India dove i livelli igienici e anche diciamo sanitari e anche le condizioni di nutrizione sono veramente pessime ma anche in Italia se vogliamo considerare il nostro paese da quando sono state introdotte le vaccinazioni si è avuto un calo incredibile delle morti uno studio dell'istat per esempio sulla causa di morte appunto e sulla mortalità dei bambini fatto a partire dalla fine dell'ottocento ad oggi ha mostrato che appunto quando le condizioni igienico-sanitarie erano pessime tra la fine dell'ottocento e inizio del novecento morivano decine tra gli 80.000 e i 30.000 bambini tra la fine dell'ottocento e inizio del novecento poi le condizioni sono un po' migliorate hanno cominciato a morire meno bambini ma diciamo la vera differenza si è avuta quando dunque man mano che miglioravano le condizioni ma tra la fine degli anni tra gli anni 60 e gli anni 70 quando le condizioni igieniche anche inizio degli anni 80 erano simili a quelle di adesso e morivano ancora centinaia di bambini ma con l'introduzione delle vaccinazioni sono andati sempre a diminuire e per arrivare praticamente agli anni 2000 dove la mortalità infantile è di pochissimi bambini si calcola in 10 bambini all'anno tranne il fatto che adesso per esempio purtroppo con la diminuzione della vaccinazione contro il morbillo per esempio sono aumentate alcune morti però appunto anche in Italia stessa paragonando del nostro stesso paese man mano non sono bastate il miglioramento delle condizioni igieniche sanitarie hanno fatto diminuire ma ancora appunto già fino agli anni 50 ancora erano migliaia di bambine che morivano ma anche dopo appunto quando le condizioni sanitarie erano simili a quelle di adesso fino a che non si sono diffuse sempre più le vaccinazioni aumentando prima quella della polio poi quella morbillo parotiterosolia poi quella della dell'epatite b quella insomma tutte le altre diciamo man mano sono diminuite fino ad arrivare praticamente quasi a zero ma anche si dice anche che in Italia appunto le malattie prevenibili con i vaccini siano quasi scomparse e quindi non c'è bisogno di vaccinarsi questo è vero ma anche se sono scomparse in Italia appunto in molti paesi ancora circano gli agenti effettivi non è che guardano le barriere tra gli stati e quindi come poi si è visto per esempio adesso con questo SARS-CoV-2 che gli è voluto dalla Cina a diffondersi in tutto il mondo e quindi le vaccinazioni sono importanti ma la vaccinazione come stiamo sentendo dire ormai da tanto non protegge solo il singolo ma quello che è importante è l'immunità di gregge ma che cos'è l'immunità di gregge che significa significa che una persona vaccinata non protegge appunto solo se stesso ma protegge anche gli altri protegge anche quelli che per qualche motivo o non reagiscono alle vaccinazioni perché ci sono le persone che non rispondono alle vaccinazioni il cui organismo per qualche motivo non risponde sono poche ma ci sono oppure che non possono vaccinarsi perché hanno dei problemi vari perché non possono vaccinarsi e come funziona questa immunità di gregge se noi guardiamo la prima figura in alto a destra vediamo che in una popolazione completamente priva di immunità come purtroppo adesso siamo noi contro questo virus contro questo coronavirus se c'è un virus che infetta una persona o due o tre insomma questa infezione si diffonde a macchia d'olio e pochissimi pochissimi non saranno infettati la maggior parte della popolazione sarà infettata se noi guardiamo e adesso invece la figura sulla sinistra noi vediamo che se alcune persone sono vaccinate ma solamente alcune queste persone non si infetteranno ma la maggior parte delle altre persone si infetteranno ma se la maggior parte delle persone sono vaccinate come si vede nell'ultima figura nell'ultima figura a destra si vedrà che appunto la malattia il virus o il batterio si diffonde veramente pochissimo praticamente si bloccherà la sua circolazione e anche quelli che non sono vaccinati saranno protetti appunto perché la circolazione di questo microorganismo è bloccata da quelli vaccinati che non si possono infettare quindi non possono trasmettere chiaramente quindi l'epidemia si esaurisce subito ma ci sono delle percentuali minime di vaccinazione che sono necessarie perché questa immunità di greggio funzioni e questa dipende le percentuali minime dalla contagiosità della malattia più elevata e maggiore per la percentuale di popolazione da vaccinare per interrompere la circolazione del microorganismo per esempio il morbillo di cui dicevamo prima è una delle malattie più contagiosi appunto detto tra le 15 e le 17 persone vengono contagiate da uno da un infetto quindi per questo per eradicarlo è necessario che la percentuale di soggetti vaccinati sia superiore al 95% della popolazione passiamo a un altro si dice ecco appunto parlavamo delle sostanze tossiche ho accennato già all'alluminio ma si dice anche che i vaccini appunto contengano altre sostanze tossiche per esempio si parla del mercurio uno dei grandi accusati di provocare gravi danni alla salute è il mercurio gli si accusa di provocare un ampio spetto di danni neurologici in realtà il mercurio proprio come mercurio come elemento è un elemento molto diffuso sì contenuti in acqua terreno pianta animali ma è di difficile assorbimento quando si parla della tossicità del mercurio ci si riferisce al metilmercurio che è un composto organico che può venire ingerito soprattutto tramite gli alimenti di origine marina ed è neurotossico in qualità elevate ma il composto del mercurio contenuto che era contenuto nei vaccini che si chiamava tiomersale è l'etilmercurio che è un composto diverso e appunto molto molto meno tossico tra l'altro tutti i numerosi studi condotti in base a rigorosi criteri scientifici hanno mostrato che non vi erano rischi per la salute in seguito alla somministrazione tramite i vaccini tuttavia tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 per motivi precauzionali questo tiomersale è stato eliminato dalle preparazioni vaccinali monodose che sono quelle che vengono utilizzate in Italia e in Europa negli Stati Uniti rimane in alcuni vaccini multidose che sono più che altro utilizzati nei paesi in via di sviluppo tuttavia in ogni caso a partire dal 2012 l'OMS ha concluso che non è necessario condurre ulteriori studi sulla sicurezza di questo tiomersale che è usato come conservante perché gli studi che ci sono stati tutti gli studi fatti hanno mostrato che è assolutamente sicuro un'altra sostanza che si accusa di provocare gravi danni è la formaldeide che è utilizzata come agente inattivante cioè che elimina il potere patogeno di un virus o di un batterio per la preparazione di alcuni vaccini per esempio trasforma le tossine del tetano e della difterite in tossoidi cioè in tossine che non sono patogene ma mantengono caratteristiche antigieniche e inattive i virus della poliomelite dell'influenza e dell'epatite A alla fine della produzione di questi vaccini però viene completamente eliminata con tante purificazioni e ne rimangono al massimo solo delle tracce delle tracce molto piccole che sono chiaramente regolamentate così come sono regolamentate le tracce di alluminio diciamo la quantità di alluminio che si trova nei vaccini ci sono anche vaccini in cui la cui produzione non richiede formaldeide tutti quelli che sono costituiti da virus vivi ma attenuati cioè indeboliti l'antipolio sebbin che è quello che si usava prima l'antipolio si usava prima il morbillo parotiterosolia l'antivaricella l'antirotavirus questi non contengono formaldeide comunque ho fatto poco noto che vorrei farvi sapere è che tutti i cibi che consumiamo molti cibi che consumiamo normalmente frutta verdura carne pesce contengono naturalmente formaldeide e anche il nostro organismo produce piccole quantità di formaldeide che è necessaria per la produzione del DNA e di alcuni aminoacidi nella circolazione di un bambino di due mesi per esempio già si trova più di un milligrammo di formaldeide quindi anche quando un bambino è vaccinato la quantità somministrata con un vaccino di questi che contiene la formaldeide è dieci volte minore della quantità normalmente presente nel sangue e comunque siccome viene smaltito rapidamente torna a livelli normali la quantità di formaldeide già dopo pochi minuti dalla vaccinazione quindi diciamo appunto tornando al discorso dell'alluminio ecco l'alluminio si trova per esempio nel vaccino esavalente e nel vaccino antipenomococco antimeningite antipapillomavirus però appunto come ho detto è il metallo più comune lo troviamo ovunque appunto ricevuto attraverso il sangue della madre e comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo tutti gli studi fatti afferma appunto che non c'è nessun rischio sanitario in relazione all'assunzione di alluminio con i vaccini o con l'alimentazione qui parliamo appunto ancora proprio direttamente di bambini si un dubbio abbastanza diffuso tra i genitori è se l'attuale calendario vaccinale non sia troppo fitto e se il sistema immunitario di un bambino di pochi mesi che loro ritengono fragile non venga sovraccaricato da gran numero di vaccini che vengono somministrati in una sola volta addirittura alcuni dicono che la somministrazione combinata dei vaccini sarebbe responsabile della comparsa d'allergie e malattie autoimmuni e perciò consiglio di aspettare con le vaccinazioni fino a che il sistema immunitario non sia sufficientemente maturo ma in realtà il sistema immunitario di un bambino di pochi mesi è perfettamente capace di rispondere ogni giorno alle migliaia di sostanze con cui viene in contatto basti pensare che con ogni respiro o con una piccolissima ferita entrano in organismo molti più microrganismi di quanti ne entino con l'intero calendario vaccinale posporre le vaccinazioni semplicemente non provoca un vantaggio ma ha lo svantaggio di lasciare i bambini senza protezione proprio nel periodo in cui sono a maggior rischio di malattie con decorso grave e che ho possibili complicanze alcuni temono che con l'esavalente il vaccino venga esposto contemporaneamente a sei malattie ma qui non si tratta di sei malattie si tratta solamente di antigeni cioè di pezzetti del microrganismo che stimola il sistema immunitario a produrre una risposta immunitaria in realtà se guardiamo la diapositiva successiva per esempio negli anni diciamo tra la fine degli anni negli anni è diminuito il numero di antigeni somministrati pur essendo grandemente aumentato il numero di malattie contro cui un bambino viene a essere protetto per esempio appunto tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta vedete la quantità di i vaccini erano pochissimi come potete vedere eppure eppure la quantità di antigeni era maggiore di quella che è somministrata adesso e questo con i vaccini obbligatori ma se andiamo a guardare nella successiva diapositiva la somma tra vaccini obbligatori e vaccini consigliati vediamo che se alla fine degli anni sessanta settanta se uno voleva fare anche la pertosse a cellula intera cioè proteggere il bambino contro la pertosse dava al bambino una quantità incredibile di antigeni ma nella situazione attuale se noi aggiungiamo i vaccini obbligatori anche vaccino quelli che sono proprio per l'infanzia aggiungiamo appunto il papilloma il meningococco e tutti questi altri noi vediamo che al massimo veniamo ad avere poco più di 200 antigeni e non c'è appunto paragone quindi se si è sopravvissuti prima figuriamoci adesso inoltre comunque tutti gli studi fatti hanno mostrato appunto che non ci sono differenze tra i bambini vaccinati e quelli non vaccinati rispetto alle allergie e alla malattia autoimmune e veniamo poi alla bomba cioè ai vaccini responsabili dell'autismo purtroppo questa è una diceria falsa che ha fatto tantissimi danni e ne continua a fare questa diceria ci dice che i vaccini e in particolare il trivalente morbillo parotite rosolia possono essere causa di autismo questa ipotesi è nata nel 1998 in seguito a uno studio di un medico inglese che si chiamava si chiama Andrew Wakefield che è stato pubblicato sull'ANSET che è una rivista una delle due riviste più importanti delle scientifiche l'altra è il Nature allora lui che diceva diceva che il vaccino morbillo parotite rosolia appunto secondo i suoi studi provocava l'autismo chiaramente ha suscitato un grandissimo clamore tantissimi ricercatori scienziati hanno provato a replicare i suoi studi ma non ci sono riusciti nessuno ha avuto gli stessi risultati in seguito a successivi controlli fu dimostrato che i risultati di questo studio e di studi successivi che lui aveva pubblicato sullo stesso argomento erano falsificati tanto che l'ANSET appunto la rivista ha ritirato l'articolo e appunto quindi ha ritirato la pubblicazione inoltre inoltre non basta questo fu dimostrato grazie all'indagine di un giornalista no torna indietro per favore fu dimostrato grazie all'indagine di un giornalista inglese Brian Deere che Wakefield aveva ricevuto un cospicuo finanziamento di 500.000 sterline cioè sono circa 600.000 sterline cioè circa 600.000 euro da uno studio di avvocati che sosteneva cause di risarcimento contro lo Stato per danni da vaccino proprio per dimostrare per fare uno studio che dimostrasse la correlazione tra vaccino morbillo parotite rosoli ed autismo in realtà nello studio lui utilizzò pochissimi bambini fece delle false diagnosi perché alcuni bambini erano già autistici prima di essere di ricevere il vaccino gli esami erano gli esami istologici erano falsi campioni negativi passati per positivi inoltre si scoprì che Wakefield aveva brevettato un sistema di azioni singole che proponeva al posto del combinato morbillo parotite rosolia e aveva anche sviluppato una cosiddetta cura per i soggetti autistici per questi motivi Wakefield fu licenziato dall'ospedale dove lavorava successivamente anche radiato dall'albo dei medici inglesi si è rifugiato negli Stati Uniti dove continua a fare danni e proseliti ma quali sono i motivi per cui si diciamo si può pensare che questi vaccini in particolare morbillo parotite rosolia possono essere collegati con l'autismo cos'è che li fa appunto che fa additare questi vaccini come causa di autismo sono due l'età di insorgenza dei sintomi più caratteristici e l'incremento dell'incidenza di autismo in genere il vaccino morbillo parotite rosolia viene somministrato tra i 13 e i 15 mesi di età del bambino e questo è proprio il periodo in cui si possono comparire i sintomi del disturbo autistico tale coincidenza temporale può portare ad attribuire appunto la comparsa dei disturbi dello spettro autistico al vaccino ma si tratta di una correlazione temporale e non causale è poi vero che i casi di autismo sono aumentati il numero di segnalazioni di disturbi dello spettro autistico sono aumentati è vero negli ultimi due decenni sebbene tutte le cause di questo aumento non siano note tuttavia uno studio danese condotto su circa 700.000 bambini ha rilevato che esso in realtà è in buona parte dovuto a cambiamenti nei criteri diagnostici che oggi comprendono disturbi che una volta erano classificati a parte per esempio ritardo mentale difficoltà del linguaggio o addirittura forme così leggeri da non richiedere un intervento medico e questo porta di conseguenza chiaramente ad un apparente aumento di casi di autismo comunque per valutare l'effettiva esistenza di una correlazione tra il vaccino morbillo parotite rosolie e l'autismo sono stati effettuati numerosissimi studi con diverse metodologie su popolazioni differenti di bambini tutti gli studi condotti in maniera rigorosa e che hanno coinvolto centinaia di migliaia di bambini ci hanno mostrato la stessa conclusione non c'è nessun rapporto tra il morbillo polotite rosolia e la sindrome autistica in realtà gli studi più recenti hanno mostrato come l'origine dell'autismo e lo possiamo vedere ecco qui in questa diapositiva risieda in alterazioni genetiche congenite cioè preesistenti alla nascita ma quale può esserne la causa? c'è uno studio per esempio che ha mostrato che alcune malattie durante la gravidanza come il diabete alcune infezioni rosolia citomegalovirus febbre prolungata ed elevata possono essere collegate con la successiva comparsa dei sintomi di autismo così come l'assunzione di alcuni farmaci di cocaina di quantità elevate di alcol e l'esposizione ad un elevato inquinamento infine uno studio successivo su oltre 200.000 famiglie ha mostrato che alcune delle mutazioni genetiche osservate sono ereditate dal materiale genetico delle cellule germinali ovvero sono già presenti nelle cellule uovo e negli spermatozoi e addirittura la maggior parte cioè oltre il 75% è a carico degli spermatozoi e la loro frequenza subisce un notevole aumento con l'aumentare dell'età del padre tutti questi studi appunto ci contribuiscono quindi a mostrarci che non c'è un ruolo causale delle vaccinazioni effettuate nei primi anni di vita sull'autismo appunto ci eliminano i possibili dubbi e la spiegazione quindi è che non si tratta di un nesso causale ma di una coincidenza temporale un'altra chiacchiera vogliamo vedere volevo finire un attimo con le chiacchiere diciamo e poi magari altre domande cioè chiacchiere nel senso un altro si dice allora scusami dimmi scusami ma stavo rispondendo sulla scienza perché c'è un po' di discussione va bene se volete possiamo parlarne anche adesso poi diciamo qualche altro si dice e le vediamo dopo vai no perché c'è in realtà c'è una persona su 90 quindi io lascerei vedere qualcosa che posso rispondere se no ok ti racconto ok c'è questo ora ti faccio anche le altre domande sono interessanti volevo solo dire questa cosa che c'è questa persona che non si sa come si chiama perché si presenta con il nome di un sito quindi probabilmente non ha voglia voler stare anonimo mentre tutti gli altri hanno nome e cognome che sta appunto scrivendo cose sulla chat però io direi di lasciarlo stare perché appunto una persona che nemmeno si presenta che parla è uno che è un convinto cioè uno che non vuole capire che non vuole ascoltare esatto vuole solo le sue temi con le orecchie esatto parla di tutte le cose classiche di un vaccinista parla di Winfix che non ha potuto pagarsi la causa in corte costituzionale tutte queste cose quindi lasciamo perdere lui e centriamoci sulle domande quelle che sono interessanti per favore i giudici non sono medici i giudici non fanno la medicina purtroppo ci sono stati e forse continuano a esserci dei giudici che si intromettono diciamo in questioni mediche e stabiliscono loro che il vaccino causa l'autismo o causa altri problemi questo perché si servono anche di consulenti che purtroppo sono sempre gli stessi e sono consulenti che raccontano le loro verità però fine della storia non voglio entrarci oltre ma infatti secondo me è uguale lo dico anche agli altri quando ci sono questi personaggi secondo me non voglio nemmeno ascoltare sono posta per fare colleghi si tappano le orecchie e fanno bla 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 per non sentire benvengano discussioni assolutamente il caffè scienza è nato domande quanto ne volete però domande per capire non domande solo a provocare con le orecchie tappate esatto comunque io ti faccio invece un po' di domande che sono arrivate a cui mi interessava rispondere arrivo la prima è una curiosità che avevo anch'io che chiede Lorenzo Lorenzo chiede temperatura e diffusione del coronavirus riferendomi al caso di diffusione del coronavirus si parla molto di correlazione con la temperatura esterna sì però dunque guarda c'è chi è più ottimista e andando a vedere diciamo la diffusione del virus in Africa per esempio o in altri paesi dove comunque fa più caldo dice probabilmente questo virus con il calore con il caldo circolerà di meno altri dicono no quindi c'è chi è più ottimista appunto e dice che con l'estate circolerà di meno ma purtroppo sicuramente tornerà con con la diminuire della temperatura e c'è chi dice invece no no non ci sperate nemmeno purtroppo non si sa è una cosa che si potrà sapere quando succede perfetto scusa mi stavo andando avanti perché devo arrivare a trovare se ci sono delle domande perché ci sta appunto tutta questa poi te la farò leggere la discussione è interessante poi vabbè dei bambini hai già parlato ah ti voglio dire sono arrivate una domanda era arrivata su facebook e vediamo se però te la leggo dopo te continuo ad andare un po' avanti perché la devo recuperare va bene io volevo sempre ancora parlare del discorso delle delle malattie di infanzia che dice che una cosa ai bambini alcuni dicono che alcuni dicono che le malattie di infanzia che le proprie le proprie le proprie le proprie le proprie per il suo sistema immunitario che invece verrebbe indebolito dalle vaccinazioni in realtà le malattie dei bambini espongono spesso la comparsa di sintomi piuttosto spiacevoli e anche dolorosi molto di più molto più pesanti dei possibili piccoli fastidi conseguenti alla vaccinazione e anche eventuali gravi complicazioni a volte il prezzo da pagare per alterare l'immunità mediante le infezioni è veramente altissimo in modo non tollerabile pensiamo appunto all'apilomelite che può provocare paralisi appunto che costringeva sulla sedia a rotelle o dentro un polmone d'acciaio per tutta la vita tra gli anni 60 e 70 quanti sono poveretti appunto finiti paralizzati o addirittura nel polmone d'acciaio un altro esempio è l'infezione da meningococco che ti mostra che si immunizza l'infezione ma le conseguenze possono essere gravissime conoscete tutti Bebevio lei all'età di 11 anni fu colpita da meningite fulminante che le causò un'infezione così estesa con necrosi degli abbracci delle gambe che dovette amputare e si può dire che è stata anche fortunata perché l'infezione da meningococco uccide un soggetto ogni 7 e inoltre la mortalità è arrivata anche ad un soggetto ogni 4-5 nei casi che si sono verificati in Toscana tra gennaio 15 e febbraio 16 e anche il rischio di sopravvivenza con gravi esiti permanenti arriva fino al 20% dei casi cioè 1 su 5 non è uno scherzo la meningite e poi abbiamo il morbillo famoso morbillo che appunto tanti pensano che sia una fesseria addirittura ci sono madri che come in epoca prevaccinale organizzano i cosiddetti morbillo party in casa di bambini col morbillo così fanno contagiare i propri figli dice ma sì così si levano il pensiero stiamo scherzando il morbillo è una malattia assolutamente da non sottovalutare alcune forme di morbillo sono particolarmente aggressive soprattutto in soggetti con basse difese immunitarie o nei bambini molto piccoli e anche negli adulti possono comparire delle complicazioni otite media polmonite diarrea epatite pancreatite in un caso su mille contagiati si può verificare un'encefalite e si può anche morire di morbillo ci sono stati diversi morti negli ultimi anni per la diminuzione delle vaccinazioni e quindi per la recrudescenza di morbillo ma una conseguenza gravissima è questa qua la panencefalite subacuta sclerosante perché diciamo oltre all'encefalite è una conseguenza grave che può verificarsi anche a alcuni anni di distanza dall'infezione causa deterioramento intellettivo convulsioni anomalie motori fino alla morte nel giro di 1-2 anni questo per esempio è un povero ragazzino sudafricano che stava ha avuto appunto il morbillo da piccolo l'ha superato e poi però verso l'età di 12 anni ha cominciato ad avere dei strani sintomi e insomma il risultato è stato che alla fine appunto dopo mesi di esami hanno trovato che era il virus del morbillo che non era stato eliminato ma era arrivato nelle cellule del cervello dove lentamente aveva continuato per tutti questi anni a replicarsi e aveva distrutto le cellule del cervello ed è morto un paio di anni fa e poi dice appunto a proposito del discorso che i vaccini indebolirebbero il sistema immunitario per esempio è proprio il vero e il contrario per quanto riguarda il morbillo il morbillo indebolisce le difese immunitarie così tanto che per addirittura i successivi tre anni dopo il morbillo l'individuo è esposto più facilmente ad avere delle infezioni anche gravi appunto perché il suo sistema immunitario è indebolito quindi addirittura la vaccinazione contro il morbillo non solo non indebolisce il sistema immunitario ma lo aiuta quindi chiaramente le malattie infettive non sono solo dei bambini le malattie infettive e le loro complicanze ma anche appunto negli adulti intanto l'infezione col virus dell'epatite B è associata alla comparsa di carcinoma epatico appunto in età adulta l'infezione con papilloma virus è associata alla comparsa di carcinoma del collo dell'utero ma non solo appunto di cancro del pene di cancro dell'ano anche di cancro esofageo quindi inoltre i ceppi che non provocano cancro comunque provocano verruche possono provocare anche verruche genitali che sono veramente dolorose l'influenza può avere appunto complicanze come le polmonite super infezioni batteriche abbiamo visto prima insomma peggioramento di malattie già esistenti l'infezione con l'opneumococco può provocare grave polmonite anche con esito mortale il virus della varicella se rimane nel stesso lo fa di rimanere dopo la varicella nei nervi può riattivarsi dopo parecchi anni e causare gravi nevralgie ed encefalite quindi insomma non si scherza ma parliamo appunto di un ultimo si dice si dice che il big pharma lucra sui vaccini che i vaccini servono alle ditte farmaceutiche anche per arricchirsi a spese nostre sì è vero certamente è vero che le ditte farmaceutiche guadagnano sui vaccini non sono mica degli enti di beneficenza tuttavia appunto le ditte farmaceutiche guadagnano molto di più con i farmaci terapeutici i farmaci per curare quei vaccini e anche perché i costi per lo sviluppo abbiamo visto quante fasi diverse sono necessarie e tutti i controlli da effettuare su ogni lotto di produzione sono elevatissimi e i ricavi non sono ugualmente elevati infatti in Europa per esempio c'erano tante ditte prima ne sono rimaste solamente tre quindi non insomma non è che guadagnino così tanto se vediamo appunto in questa diapositiva per esempio vediamo quanto ci costano i vaccini quanto costano i vaccini nel sistema sanitario nazionale nel appunto nel 2017 che è stata introdotta la legge Lorenzin la spesa complessiva per i vaccini è stata di 487 milioni di euro che rappresentano l'1,6% della spesa totale dei farmaci italiani nel 2018 che i dati arrivano solo fino al 2018 perché diciamo sono usciti alla fine del 2019 le studi allora nel 2018 su 29 miliardi abbondanti per i vaccini si è speso 529 milioni questo appunto viene dal rapporto appunto del 2019 e ogni persona in questo anno cioè nel 2018 ha speso globalmente in media 8,7 euro per i vaccini per fare un confronto invece si sono spesi a testa 33 euro abbondanti per i farmaci contro l'ipertensione e 14 euro più di 14 euro a testa per i farmaci antiacido inoltre la spesa per curare una malattia non prevenibile con la vaccinazione come l'epatite C è stata oltre di un miliardo e per l'HIV i farmaci sono costati oltre 600 milioni quindi questo ci dice che le ditte guadagnano molto di più con i farmaci ma comunque per esempio potete vedere questo esempio di costi per il morbillo anche per esempio appunto quanto costa il ricovero per il morbillo nei casi non complicati appunto costa quasi 1500 euro nei casi complicati su 2700 e invece se appunto quindi nel 2017 ci sono stati scusate tra il 2017 e il 2019 ci sono stati parecchi casi di morbillo e praticamente il costo per i ricoveri ha superato i 10 milioni di euro invece con quei soldi lì a voglia quante persone si sarebbero potute vaccinare per esempio solo per vaccinare appunto lo stesso numero di persone o comunque insomma anche 9000 persone si sarebbe speso molto molto meno e anche se vediamo un altro esempio l'epatite B nei primi 20 anni della vaccinazione cioè tra il 91 e il 2010 sono stati evitati vedete quante infezioni casi di epatite acuta e si sono tra pianti di fegato e sono stati risparmiati 81 milioni di euro a questo punto quindi sorge un dubbio un dubbio scherzoso ma se i farmaci per curare le malattie prevenibili costano molto di più dei vaccini non sarà che sono gli antivaccinisti che sono al soldo di Big Pharma e qui diciamo avrei finito con la con la mia presentazione diciamo con il mio discorso e sono quindi disponibile a qualsiasi domanda che mi vogliate fare qualsiasi chiarimento che di cui abbiate bisogno allora ho prezionato le domande quindi sono pronta a fartele sono riuscita a estrarle dalla chat quindi la prima domanda è di Stefano come vengono selezionati i volontari per il trial sui vaccini beh vengono selezionati chiaramente intanto devono essere persone sane e in genere diciamo viene fatta una specie di bando e si presentano varie persone spesso inizialmente le cercano magari anche tra i conoscenti non so comunque no in genere viene fatta una specie di bando viene controllata la salute e vengono appunto spiegato tutto quanto però ecco non è che lo so bene sono in grandi linee insomma non ho mai lavorato presso una ditta quindi non so e poi comunque io mi occupavo della sicurezza del vaccino della sicurezza e non della parte clinica quindi appunto non lo intendo bene e poi un'altra domanda interessante è questa quando uno si vaccina per il morbillo in realtà l'immunità poi è per sempre o almeno così giusto è per sempre mentre quella dell'influenza va fatta ogni anno il vaccino scusa il vaccino per il coronavirus come sarà e come si fa per i test mi chiedono perché qualcuno vuole anche farlo dunque intanto qui purtroppo non sappiamo quanto durerà l'immunità contro il coronavirus non lo sappiamo proprio potrebbe durare un anno due tre o di più non si sa comunque già se si riuscisse a vaccinare tutta la popolazione o quasi tutta comunque anche se durasse un anno due o tre intanto si interrompe la circolazione non dovrebbe in base alle esperienze precedenti non dovrebbe essere necessaria vaccinare tutta la popolazione nel senso il cento per cento il novanta per cento perché questo virus non è proprio tanto contagioso appunto non è come il borbillo per cui è necessario più del novanta cinque per cento della popolazione perché è molto contagioso questo è molto meno quindi forse non sarà necessario non so forse basterà un ottanta ottantacinque per cento non lo so queste sono mie le azioni non vanno prese assolutamente come oro colato assolutamente e certo quello che non sappiamo appunto è quanto durerà speriamo abbastanza per riuscire a bloccarne la circolazione e il seguito della domanda era e come si fa a proporsi per il test se uno vuole diventare test per vedere se uno ha gli anticorpi no no per fare un vaccino per fare il test umano sul vaccino non so esattamente guarda anche perché dunque adesso in Italia ci sono due ditte che stanno lavorando a un vaccino una appunto è l'IRBM che si sta facendo insieme all'università di Oxford ma ho sentito giusto stasera che hanno cominciato le prove di fase 1 cioè quelle per la tossicità ma su volontari inglesi in Inghilterra le hanno cominciati e quindi non appunto non in Italia e c'è un'altra ditta che sta aspetta che non mi ricordo il nome lo voglio vedere un attimo qui dunque sta qui diciamo nel Lazio a Castel Romano quindi c'è qui nel Lazio e si chiama Reitera ed è una ditta appunto tutta italiana da quello che mi risulta però non so appunto stanno ancora non hanno cominciato la fase 1 non so come valuteranno cioè come sceglieranno che tipo di di bando tra virgolette faranno non ne ho idea questa ditta si chiama Reitera col TH non so se cercando sul loro sito ci si può proporre non ho idea e poi c'è una domanda di Andrea Andrea chiede è vero che alcuni virus o batteri non possono essere sradicati perché non risiedono solo negli uomini zoonosi beh sicuramente non so l'influenza non la possiamo eradicare per esempio non solo perché è variabile ma perché appunto questa è una zoonosi perché praticamente si ritrova negli uccelli e nei maiali che possono trasmetterla a noi quindi questa non si può eradicare e altre beh vediamo un po' certamente l'ebola è una zoonosi anche l'AIDS è una zoonosi anche se ormai è adattata all'uomo però anche questa appunto è cos'è questa cosa qui è comparsa la domanda in Italia che sta facendo della regia ho sbagliato ho sbagliato va bene non ci sono più problemi legali che io sappia in Italia per fare i test sui volontari perché qui si tratta appunto devono essere persone adulte sane danno il consenso informato quindi non credo che ci siano problemi insomma sì ci sono delle malattie appunto che non si riesce a eradicare o perché il virus è variabile o perché può esserci di nuovo trasmesso dagli animali sì andiamo avanti con le domande allora in quasi ogni malattia si incontrano i cosiddetti portatori sani che per un motivo forse anche genetico non si ammalano ci sarebbe un modo di sfruttare questo meccanismo per sviluppare vaccini? non lo so veramente non in che modo diciamo non è anche se fosse se noi scoprissimo qual è il sistema cioè che cosa risiede diciamo se qualcosa genetico per esempio se noi scoprissimo che c'è un certo gene con una piccola mutazione per cui queste persone diventano portatori sani come faremmo? non potremmo mica inserire questo gene nelle cellule delle altre persone mi viene in mente scusa se intervengo una cosa che non è esattamente questa ma che per l'HIV ci sono delle persone che hanno una mutazione in un insomma in un recettore che viene usato all'HIV per entrare nelle cellule e per esempio alcune persone tramite trapianto di sistema immunitario essenzialmente dovuto chiaramente ad altre patologie sono diventati resistenti all'HIV perché hanno acquisito questa resistenza quindi non tanto ai portatori sani perché diciamo come fai a trasferirlo? cioè che fai come fai a trasferirlo? qui si tratta di cose molto invasive perché il trasferimento di tutto il sistema immunitario io non lo farei così non puoi fare questo nella popolazione insomma anche se si scopre che è appunto dovuto a qualche mutazione favorevole dell'individuo non è che poi come fai sugli altri? è solo per dire chissà forse in un lontano futuro vai andate avanti con le domande non attualmente allora in realtà c'è un'altra domanda che poi la domanda è questa te la leggo c'è il rischio aumentato di contrarre infezioni respiratorie da virus non influenziali in soggetti vaccinati per l'influenza? ho letto alcuni studi scusa finisco finisco ho letto alcuni studi non so se attendibili non sono antivacus anzi quindi è una persona che è vaccinista cioè nel senso però ma non è che se uno se uno è vaccinato per l'influenza è vaccinato solo contro l'influenza non è che diciamo poi è protetto contro virus differenti contro microorganismi differenti per cui no c'è diciamo chi dice che forse non so beh per esempio il vaccino del morbillo in qualche modo risulta protettivo perché contro anche altri microorganismi contro altre infezioni perché elimina la possibilità di contare il morbillo che invece deprime il sistema immunitario quindi in questo senso però non è fare vaccinazioni contro virus differenti o altri microorganismi può aiutare a diventare più forti contro altri se questa era la domanda poi vediamo se ricommenta te lo te lo dico e poi allora si alleggerisce un attimo una cosa perché c'era un discorso faceva Martina e poi si suona le domande su vaccini che però è interessante è interessante mi coinvolge anche in prima persona perché si tratta di un discorso sulla comunicazione e la divulgazione aspetta un secondo ecco devo ritornare la domanda te la leggo e ripeto qui un attimo poi posso anche dire una cosa io rispondi te ma voglio dire anche la mia la domanda è questa una curiosità più da divulgazione scientifica com'è possibile interfacciarsi con i Novaks con spiegazioni logiche non si riesce con l'ignorarli non si spiega con l'agrivire non è una modalità corretta allora cosa fare secondo te Graziella che lo fai di mestiere con gli antivax puri diciamo duri e puri non c'è niente da fare perché con l'antivax duro e puro se tu gli cerchi di spiegargli qualcosa si sente attaccato per cui reagisce testardendosi ancora di più nella sua idea non c'è niente da fare perché è proprio una ormai appunto lui ha queste credenze queste convinzioni che fanno parte di lui stesso se tu cerchi di spiegargli le cose diverse viene fuori quel meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva ovvero se tu hai una credenza ma vieni posto davanti a un'altra che è completamente differente che anzi è l'opposto tu praticamente vai in questa ansia in un'ansia cognitiva per cui cancelli completamente quello che è diverso da quello a cui tu credevi in quel momento perché altrimenti cioè ti crea dei problemi tali psicologici ti crea anche la cosa di dire ma oddio possibile che sono stato così stupido che ho sbagliato fino ad adesso non lo puoi ammettere con te stesso appunto perché questo ti va ti va contro appunto te stesso contro le tue convinzioni contro la tua natura per cui il novax è duro e crudo non c'è niente da fare quello che si può fare è cercare appunto con le spiegazioni mostrando anche i testi mostrando proprio le fonti e questo chiaramente si può fare con una cosa scritta quando si scrive perché magari quando si parla così è difficile mostrare le fonti comunque spiegando per bene mostrando le fonti puoi convincere le persone che sono in dubbio quelle che appunto non sanno bene e cercano appunto un chiarimento su queste può essere utile questa è la mia opinione poi adesso dici tu anch'io sono per assolutamente è come se fosse una fede quindi è inutile è inutile anche ragionarci cioè sono persone che hanno una loro fede perché non direi nemmeno una loro idea perché si tratta di fede perché poi sono persone magari anche spesso colte per cui non sono persone che avrebbero anche la capacità di appunto analizzare per me le fonti però che hanno una loro fede per cui vanno lasciate stare secondo me sono inconvincibili quindi è anche inutile discutere ci sono d'accordo con te non so se Martina poi è d'accordo con noi o no ma ci dirà e comunque ti ringrazio per la risposta perché per chi non c'era anche l'altra volta ne abbiamo parlato al Caffè Scienza scorso con Graziella e devo dire è stato molto interessante anche lì continuo con le domande allora allora aspetta un secondo solo scusami ma siccome c'è stata un po' di discussione ah Massimo chiedeva così come fra i batteri si sviluppa la farmacoresistenza microorganismi e virus si evolvono per contrastare l'efficacia dei vaccini beh potrebbero potrebbero farlo per fortuna in genere non in genere non succede potrebbe ma sembrerebbe che per ora no per ora diciamo i vaccini tranne il famoso vaccino dell'influenza ma quello diciamo cioè il virus dell'influenza non lo fa in realtà per per difendersi dal vaccino lo fa perché normalmente è un virus che muta indipendentemente dalla vaccinazione però per appunto per quanto riguarda perché anche perché i batteri in realtà mutano non per difendersi dal vaccino ma per difendersi dagli antibiotici quindi diciamo è una cosa diversa un virus potrebbe mutare per difendersi invece da un antivirale in realtà gli antivirali qualcuno scenemma non sono poi così almeno finora non so se si riuscirà a trovare qualcosa per questo coronavirus ma almeno finora gli antivirali che sono stati utilizzati hanno mostrato poca attività c'è un antivirale che stanno usando contro questo coronavirus che è il Remdesivir che agisce contro la RNA polimerasi del virus cioè l'enzima del virus che fa sì che permette la replicazione dell'RNA la moltiplicazione dell'RNA cioè dell'acido nucleico del virus e agisce appunto su un punto insomma quindi lì potrebbero esserci delle mutazioni dell'RNA per esempio specialmente se la quantità di antivirale non è quella giusta ma è inferiore così come avviene magari con gli antibiotici che uno prende l'antibiotico gli si dice prendilo almeno per 5 giorni lo prende per 2 giorni e questo fa sì che diciamo facilmente si sviluppino delle resistenze cioè prendano il sopravvento dei batteri un po' mutati lo stesso anche con in questo caso per esempio se la quantità le dosi date fossero troppo poche potrebbero svilupparsi delle varianti che poi magari non sono più diciamo su cui l'antivirale non agisce più però per quanto riguarda i vaccini finora non è successo neanche con quelli batterici in realtà Federica fa una precisazione io la leggo perché mi sembra importante farla non c'è solo il medico vaccinatore esiste un'altra figura specializzata in vaccinazioni in indagini epidemiologiche ora molto importante di cui non si parla mai l'assistente sanitario beh è vero sì è giustamente Federica l'ha detto e aspetta ecco ci sono Franco no volevo se avete finito ricordavo volevo ricordare due cose che sono state citate perché vi ricordate qualche anno fa abbiamo fatto nel 2017 un caffè scienza proprio su i vaccini e gli errori della comunicazione vi ricordate era il momento della contestazione in Italia dovuta al fatto appunto che si facevano troppi vaccini per i bambini se lasciessi sotto una certa copertura vaccinale e infatti poi ci fu l'epidemia di morbide e così e c'è questo libro di Grignolio che io ho provato a invitare ma voleva 7000 euro forse no forse 2000 euro ma voleva un pacco di soldi per venire a caffè scienza che ovviamente non ce l'abbiamo e quindi ho dovuto fare io le vesci del relatore nel senso mi lessi il libro di Grignolio me ne lessi altre e quindi c'era tutta una discussione molto interessante delle indagini molto interessanti sul in qualche maniera il perché appunto c'è questa resistenza diffusa ai vaccini chiaramente c'è la dissonanza cognitiva come hai ricordato te c'è anche il fatto che ormai siamo tutti molto più acculturati nel senso che un gran parte delle persone anzi gran parte degli antivanticinisti sono laureati e chiaramente si sentono un po' alla pari rispetto ai dottori nel senso sono laureato io sei laureato te no e quindi perché quello dico io deve essere meno importante di quello che dici te quindi mentre una volta chiaramente uno faceva quello gli diceva il medico se il medico gli diceva vaccinarsi si andava a vaccinare ora siamo un po' siamo nati imparati e poi c'è anche il discorso del fatto che appunto oggi riteniamo intollerabile per esempio una morte o anche una malattia di un bambino giustamente perché normalmente non siamo più abituati a vedere morire i bambini una volta era naturale quando uno faceva figlioli prendeva in conto la possibilità che una percentuale alta di questi figlioli morisse oggi sembra inconcepibile oggi vedere morire un bambino è un crimine diciamo dell'umanità e quindi chiaramente avendole poche avendole magari uno solo uno dice perché devo esporlo a un qualsiasi minimo rischio chiaramente con il vantaggio di proteggere la popolazione ma con il vantaggio di assumere io un piccolo rischio perché rischio se è possibile non fare proprio questo infatti citava mi ricordo in quel libro l'esempio di un dottore in qualche maniera antivaccinista americano che suggeriva però di non fare propaganda rispetto all'antivaccinismo cioè diceva non vaccinate i vostri figli ma non ditelo ai vostri vicini perché loro almeno si vaccinano e proteggono anche i vostri figli questo è molto americano come modo di dire basta così vi lascio di nuovo discutere ma è questo appunto che non mi sento più no no sì sì che il danno diciamo da vaccino eventuale lontanissimo è appunto considerato molto più probabile di invece un danno dovuto alla malattia quando come abbiamo visto la possibilità di avere un danno da una qualsiasi malattia infettiva è molto più elevato di un eventuale effetto collaterale di un vaccino però appunto siccome le malattie infettive non circolano circolano poco ma circolano poco perché ci sono i vaccini non facciamo le vaccinazioni e vediamo quello che succede che è successo con il morbillo appunto tra il 2015 2016 fino ad arrivare all'anno scorso ci sono stati tanta gente con malattie anche gravi e ci sono stati dei morti che non ci sarebbero stati e non c'erano prima prima che calassero le percentuali di vaccinazione io non lo so e appunto io questa gente che questi antivaccinisti convinti li metterei tutti insieme in un'isola no no ma siamo invece un'altra un'altra cosa interessante non sono protetti dagli altri capito e vedrei quello che succede è vero è vero però c'è una una cosa che mi ricordo sempre mi ricordo se era dal libro di Grignolio o da un altro libro interessante che si chiama Nudge la spinta gentile che parlava anche quello delle strategie perché queste opposizioni ai vaccini non sono cose nuove ci sono verificate per esempio anche in Inghilterra nell'ottocento in cui veramente c'erano il problema del colera insomma erano grossi problemi e anche lì ci sono state vi ricordate anche l'immagine che ho messo come corredo di questa faffecenza su youtube se guardate su youtube vedete c'è quell'immagine famosa di quella stampa ottocentesca in cui si vede i medici che vaccinano e che ai pazienti spuntano buboni con teste di vacca perché essendo appunto il vaccino fatto dalle vacche e così via quindi è una cosa riconosciuta l'Inghilterra un secolo fa o quasi ha percorso quello che noi ovviamente essendo un po' ingenui abbiamo fatto ora per quanto riguarda gli altri vaccini ovvero prima hanno detto obblighiamo tutti a vaccinarsi ci sono state barricate scontri e così via poi hanno usato un approccio molto più soft e mi sembra che adesso sia possibile non vaccinarsi l'Inghilterra ma per non vaccinarsi ti richiedono che tu praticamente passi un esame in cui racconti di sapere tutte le conseguenze a cui puoi andare incontro se non ti puoi vaccinare tuo figlio o te stesso e quindi chiaramente non è tanto la conoscenza e la fatica di passare questo esame che fa sì che tutti si vaccinino e basta chissà non so se funzionerebbe qua chi lo sa comunque sì è vero appunto che l'opposizione ai vaccini è cominciata subito da subito da quando Genera ha cominciato a cercare di diffondere la sua vaccinazione già non gli hanno dato retta alla Royal Society alla Royal Scientific Society la pubblicazione in cui dimostrava diciamo in cui scriveva le sue osservazioni dimostrava l'efficacia se l'è dovuta stampare da solo non gliel'hanno voluta pubblicare perché non ci credevano figuriamoci poi appunto tutte le associazioni antivacciniste in Inghilterra proprio una quantità enorme poi in Francia e poi ovunque anche in Italia anche negli Stati Uniti e c'è stato da sempre da subito da subito c'era una domanda che te la faccio e poi magari chiudiamo però una domanda era interessante tra tutta la discussione c'era questa domanda i vaccini sono più efficaci nei giovani che negli anziani cioè è vera questa cosa oppure diciamo il sistema immunitario dell'anziano è meno attivo meno funzionante diciamo che quello dei giovani quindi potrebbe essere che nell'anziano appunto funzionino un po' meno però anche qui dipende dalle persone certo appunto questo è vero che il sistema immunitario è meno meno forte funziona meno bene perfetto io direi che abbiamo esaurito più o meno tutte le domande mi scuso se qualcuna mi è saltata nella diciamo nella discussione a questo punto volevo solo ricordare devi dire due parole sul CICAP cioè assolutamente vai appunto io sono diciamo tutte le mie attività le faccio appunto queste di diffusione sui vaccini contro le bufale le faccio a titolo volontario appunto perché faccio parte di un'associazione che si chiama CICAP che vuol dire Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che è un'associazione appunto di volontari che è stata fondata da Piero Angela nel 1989 e si batte diciamo per diffondere la cultura scientifica per diffondere la mentalità scientifica ovvero la necessità di non fermarsi a credere a tutto quello che ci viene detto ma a cercare le prove informarsi appunto informarsi e cercare diciamo i siti scientifici cercare le diciamo non non fidarsi appunto del primo venuto e noi facciamo appunto delle conferenze delle riunioni ma ci divertiamo anche naturalmente e benvenuto chiunque ci voglia dare una mano il CICAP potete vedere le sue quello che fa diciamo di cui si occupa esattamente andando a cercare semplicemente cicap.org in ogni regione ci sono delle dei gruppi dei gruppi locali a cui volendo si può ademire appunto e dare una mano non è necessario essere essenziali si può essere esperti in qualsiasi altra cosa e dare comunque appunto una mano perché è importante appunto al giorno d'oggi combattere contro le pesserie che vengono dette noi ci occupiamo diciamo diffondiamo anche nelle scuole questa mentalità scientifica e ci occupiamo di tutto di tutto quello appunto che può essere considerato scienza in qualsiasi senso scienze biologiche scienze chimiche ma anche scienze storiche tutto quello appunto su cui si può si possono raccontare fesserie e su cui si può accettare la verità punto grazie 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 esauriente Giovanna vuoi lanciare i prossimi appuntamenti voglio lanciare il prossimo appuntamento la prossima settimana perché la prossima settimana andiamo su Marte andiamo su Marte andiamo a capire come è stata l'esplorazione su Marte nel passato e come sarà nel futuro con Aldo Piombino che modera e vi aspettiamo tutti giovedì prossimo 30 aprile alle ore 21 poi Franco chiaramente potete anche continuare a seguirci su Radio Moca su Nova Radio la domenica il sabato e la domenica la mattina oppure in podcast ci sono appunto interviste impossibili interviste normali tante cose e poi stiamo chiaramente lavorando anche in base alle vostre richieste in particolare me ne è arrivata una che mi domandava di studiare come gli animali stanno preoccupando le città visto che finalmente gli umani se ne stanno in casa e gli animali stanno tornando a occupare le città c'è stato un avvistamento di uno lupo forse o uno pseudo lupo non si sa a Prato c'era dei filmati che giravano con volpi cinghiali ma i cinghiali ci sono sempre cervi che rientrano in città e allora mi sono attivato ora i grandi esempi di ricolonizzazione sono a Cernobil e a Fukushima perché lì veramente ci sono grosse aree che sono state disabitate dagli umani perché ovviamente sono radioattive e quindi ho contattato uno studioso di Cernobil di Fukushima americano e quindi probabilmente per il mi sembra il 7 maggio faremo un caffè scienza con questo professore e con i suoi assistenti per fortuna ce n'è uno che credo parla italiano altrimenti cercheremo di fare qualcosa diciamo a metà l'italiano e l'inglese in cui si vedrà come gli animali hanno rioccupato Cernobil e Fukushima e come potrebbero rioccupare l'Italia alla volta che gli umani magari per qualche virus vengano sterminati tutti con questo messaggio augurale vi lasciamo grazie per tutti i partecipanti anche per l'enorme numero di messaggi che sono girati sulle chat ringraziamo tutti insieme penso Graziella per il suo ottimo contributo ringraziamo il Cicap e Graziella mi raccomando porta a nome di tutti noi l'invito al Cicap di farsi avanti per eventuali altri Caffè Scienza invito tutti quanti a suggerire temi idee nozioni vorremmo per esempio riuscire anche a fare i Cine Scienza online vediamo cosa riusciamo a fare e quindi Giovanna veni vai pure no volevo solo dire che stiamo appunto organizzando anche un altro un altro Caffè Scienza sul tema coronavirus con un immunologo e probabilmente si parlerà anche dell'evoluzione del virus insomma vi farò sapere però stiamo lavorando appunto perfetto va bene direi che abbiamo fatto una certa e quindi salutiamo arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti quanti di avermi ascoltato e delle domande perché insomma vuol dire che l'argomento vi ha interessato grazie bene alla prossima grazie a tutti